buonasera a tutti pietro riglia 28 febbraio non ci trovavamo in video da due settimane ritorniamo ritorno con un video che verrà legato sia sul canale e youtube che avete sullo sfondo il mio personale ma anche sul canale privato sul canale gratuito telegram e tutte le info per accedere sia al canale telegram gratuito che iscrivervi al canale youtube lo trovate all'interno della descrizione di questo video come all'interno descrizione di questo video trovate anche la possibilità di abbonarvi ai miei report e segnali operativi oggi l'occasione per andare a parlare di un titolo ricordiamoci fase di mercato questa difficile con la guerra in atto tra ucraina e russia mercato azionario che dai top dei 26 mila punti massimi degli ultimi 13 anni ha perso una una performance negativa in doppia cifra nel corso di queste settimane e oggi andiamo a parlare di uno di quei titoli che in questa fase di mercato sta soffrendo più degli altri parliamo del titolo unicredit lo vediamo sullo sfondo il grafico prezzi che è solamente all'inizio del 2022 ma possiamo dire solamente qualche settimana fa dopo l'uscita dei dati del 2021 si era spinto fin verso l'aria dei 16 euro ricordiamoci un trend quello presente sul titolo unicredit partito e tra fine ottobre e inizio novembre 2020 quando i prezzi viaggiavano in avia 6,10 6,20 questo importante canale rialzista che ha poi accompagnato i prezzi fin verso appunto i 16 euro quali sono i motivi che hanno portato questa forte correzione quali sono i motivi che hanno spinto e facendo segnare una delle peggiori performance a piazza affari nelle ultime giornate nonostante appunto il rimbalzo che poi abbiamo vissuto nella giornata di venerdì scorto ovvero è il motivo lo ritroviamo nella presenza di unicredit attraverso appunto alcune suoi sportelli quindi la presenza in russia questo ha fatto ha scatenato un vero e proprio sell off sul titolo che dal mio punto di vista è anche esagerato perché solamente il 3 per cento degli utili che provengono che unicredit da solamente il 3 per cento arrivano appunto dalla russia dalle filiali appunto russe quindi un misero 3 per cento tra virgoletto misero 3 per cento 180 milioni di euro e credo che non il 3 per cento non significa vedere una correzione di oltre il 30 per cento rispetto ai top che abbiamo toccato appunto solamente qualche settimana fa a piazza affari per il titolo unicredit quindi credo una reazione esagerata a quella del mercato solitamente in una fase così colti dal panico anche perché poi ricordiamoci il titolo era all'interno di un trend rialzista ed è anche possibile che molti che ci guadagnavano possono aver preso beneficio per evitare appunto poi di trovarsi intrappolati in situazioni non abbastanza chiare però credo che questa sia una correzione abbastanza esagerata tant'è che oggi noi come portafoglio italia lo abbiamo rimesso in quello abbiamo rimesso nel nostro portafoglio era uscito durante le settimane passate il titolo con una performance importante era uscito dal nostro portafoglio le settimane passate ma oggi lo abbiamo rimesso in portafoglio questo per due motivi essenziali il primo l'ho detto credo che la fase correttiva sia abbastanza esagerata il 3 per cento dei ricavi degli utili che arrivano dalla russia non giustificano un calo superiore al 25 30 per cento e poi prezzi che sono tornati a testare queste importante trend line rialzista la parte bassa di questo canale rialzista quello che si innesca dai minimi di ottobre novembre del 2020 testati oggi nell'interrotta in rotta questa e questa trend line recuperata sul finale di giornata un rischio rendimento abbastanza accettabile in quanto sotto gli 11 euro o meglio ancora sotto i minimi di dicembre l'area dei 10,50 si potrebbero chiudere le posizioni però un rischio rendimento abbastanza accettabile perché dinanzi a noi avremmo possiamo avere dei target ambiziosi posti fin verso gli ex supporti dei 12,85 che abbiamo rotto 12,85 euro che abbiamo rotto nella giornata del 24 di febbraio credo che il titolo abbia scontato forse oltre di quello che ci si aspetta in questa vicenda appunto in questo conflitto tra russia ed ucraina e quindi da a questi livelli gli 11 euro credo che possono rappresentare un'ottima base del titolo potrebbero riprendere il suo trend e di fondo siamo anche a contatto con la media mobile a 200 giorni e appunto l'area degli 11,05 11,10 sono i livelli dove oggi gli abbonati al portafoglio italia sono entrati con un rischio rendimento appunto abbastanza accettabile ricordo che ci si può abbonare trovate il tutto all'interno delle iscrizioni di questo video abbonare al portafoglio italia se ci si può abbonare anche al portafoglio di wall street alle criptovalute ricordo che chiunque si abbonati poi entra a far parte di un canale privato dove lì riceve tutta l'operatività appunto del mercato azionario a cui appunto ci si abbonati con questo è tutto ci ritroviamo con gli articoli che pubblico giornalmente sul canale gratuito telegram e poi eccezionalmente ci sono alcuni giorni in cui vengono anche postati dei video vi auguro una buona giornata ma soprattutto massima cautela sui mercati a livello generale in questa fase appunto che rimane molto nervosa e volatile in scia appunto a questo scontro questa guerra tra russia ed ucraina buona tratta a tutti ai prossimi incontri